L'incontro di ieri, scrive il sindaco di Castellammare Nicolo Coppola, per me ha avuto lo scopo di stimolare il governo regionale a prospettarci una possibilità diversa e chiara sullo smaltimento dei rifiuti. Su questo sarei stato d'accordo a firmare un documento, un impegno a risolvere il problema dello smaltimento. Il costo delle discariche non è più sostenibile per i cittadini. Spendiamo 800 mila euro l'anno per alimentare una discarica a 200 chilometri di distanza. Occorre che il governo regionale non rimanga immobile a fronte il problema. L'incontro di ieri, a mio parere, ribadisce Coppola, ha avuto lo scopo di stimolare in tal senso ed è stato illustrato un sistema possibile che sarà valutato dalla SRR. Siamo contro ciò che può causare impatto ambientale ed inquinamento. Se la soluzione non è questa, ci si dica cosa fare nel momento in cui non sarà più possibile conferire il rifiuto a Siculiana. Ma la regione non rimanga immobile e ci prospetti delle soluzioni. L'incontro è stato illustrativo di una soluzione possibile ed infatti nessuno di noi sindaci presenti ha firmato il protocollo. L'ha affermato appunto Nicolo Coppola riguardo all'incontro che si è tenuto il pomeriggio al Castello Arabo Normanno. È stato sottoposto un protocollo d'intesa ai sindaci sul sistema integrato per il trattamento dei rifiuti organizzato da SRR Trapani Nord, società per la raccolta dei rifiuti. Nessuno dei sindaci presenti ha firmato il protocollo poi consegnato al presidente della SRR, il sindaco di Valderice, Girolamo Spezia. La proposta è stata quella di realizzare un gasificatore ad alta temperatura per la Sicilia occidentale, tra le province di Trapani e Palermo ed Agrigento, precisamente in un'area nei pressi dello svincolo di Gallitello, in 12 ettari di terreno in territorio di Caldafimi-Segesta. L'ingegnere Luca Spadacini dell'OESA, Officina Elettronica Strumentazione Automazione, esperto nella progettazione di sistemi per il trattamento integrato dei rifiuti solidi urbani, ha illustrato le tecnologie disponibili, tra le quali quella del gasificatore e impianto che dai rifiuti di cava combustibili gassosi impiegabili per la produzione di energia, parlando di sistema presente in Svizzera, Svezia e Giappone a basso impatto ambientale e che salvaguarda la salute pubblica per la concentrazione di diossine inferiore ai livelli misurabili. I sindaci però non hanno voluto firmare il protocollo rimandando le valutazioni a possibili e futuri incontri della SRR.